Rilassiamo l'addome, in particolare la zona sotto l'ombelico, premiamo con le dita delle mani la nostra carne verso il basso, poi da dentro tiriamo la pancia su. Rilassiamo la pancia, riportiamo verso il basso, tiriamo da dentro la pancia su. Rilassiamo, spingiamo verso il basso, tiriamo. Rilassiamo, mettiamo le mani di fianco al corpo, proviamo a rilassare l'addome, lasciando andare la pancia giù, poi la tiriamo da dentro su. La rilassiamo, immaginiamo che scivoli giù, immaginiamo tirandola che scivoli su. Rilassiamo, tiriamo su. Rilassiamo, respiriamo naturalmente.